Te le due roti, l'avanguardia, Maria Sole, la papessa, cantante d'avanguardia, avanguardia di se stessa, giriamolo, qui ci sta Maria Sole, perché il brano è questo che stiamo ascoltando. Vedi e poi parlate male dell'avanguardia, è già finito, sentiamo Allendelon. Sono io Allendelon, 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 Allendelon. Benissimo, sosteneva di essere la presunta figlia di Marilyn Monroe. Grazie Dario. Una regia molto di Tascali che fa insomma. Te le due roti. Il tutto, il sola, il sola, il tutto il gramma dell'Allendelon. Teledo Ruth, la vanguardia.